Morito e vi diciamo, Massi non è credibile su Manu, ciao Sono cinque messaggi le eh Sicuri che non volete una sedia? Sì, sì, guarda, al tavolo Andiamo, andiamo Era un po' poco credibile svolta a destra su Manu, ciao Massi, vediamo Però a questi tempi che ne sai? Guarda, io lì ce lo vedo